La storica Brioni, che ha la sede principale a PEN, rischia di sparire dopo il cambio di strategia aziendale nella gestione degli esuberi dichiarati al mese il 13 aprile scorso. Tagliano corto i sindacati che con le RSU oggi hanno promosso un sit-in davanti allo stabilimento. Preoccupa la chiusura dei reparti di maglieria e camiceria. Deborah Del Fiacco, Wilteca Bruzzo, i motivi di questo picchetto? I motivi sono dettati dal fatto che l'azienda ha intrapreso un'azione unilaterale disattentendo quella che era l'accordo fatto dopo l'incontro al Ministero Sviluppo Economico dove l'azienda aveva presentato il piano industriale evidenziando il fatto di avere 320 esuberi. Il giorno dopo ci siamo incontrati in Confindustria dove abbiamo sottoscritto un accordo di condivisione della gestione degli esuberi tramite un incentivo all'esodo e soprattutto con uscita volontaria. L'azienda oggi invece ha annunciato la chiusura di due reparti di camiceria e di maglieria nel sito di Montebello. Quindi di fatto portando questi lavoratori che dovranno uscire come esodo incentivato e in base volontaria con uscite forzate. Leonardo D'Addazio, Femca, Cisla. Ma questa è un'avvertenza che riguarda tutti i lavoratori? Tutti i lavoratori Brioni no, perché riguarda soprattutto i lavoratori Roma Stà il circa 960, mentre gli altri sembra di no perché ad aprile sono stati distribuiti sia i premi che gli aumenti della retribuzione annualorda. Mentre per gli altri lavoratori negli anni si è proceduto a una riduzione dell'orario di lavoro e conseguente riduzione dello stipendio e anche l'annullamento del premio integrativo. Questo ha fatto sì che i lavoratori hanno perso circa 5.000 euro all'anno su una base di 20.000 euro. Antonio Perseo, Filtem, CGL. Domani avete un incontro? Sì, domani abbiamo un incontro. Ci ha convocato la Regione per fare una verifica della situazione. Molto importante il ruolo delle istituzioni perché noi abbiamo firmato un accordo il 13 aprile al Ministero dove c'erano delle dichiarazioni dell'azienda di un senso. Adesso l'azienda ha cambiato posizione e ci ritroviamo qua ovviamente per contrastare quella decisione. Io non temo la delocalizzazione, io temo un'altra cosa, che nel 2013 sono stati dichiarati 400 esuberi. Adesso nel 2021 sono stati dichiarati 320 esuberi. La mia paura è che fra 4-5 anni, nel 2025 verranno dichiarati ulteriori 300-400 esuberi. Quindi a colpi di mano, di licenziamenti collettivi, questa azienda piano piano sparirà da questo territorio. Grazie. 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 Grazie.